Mi sono vestito da derby, da curva, magliettina nera per questo video che spero è emozionale alla vigilia, alla vigilia del derby. E allora sarà così bello quando vince il Milan, la canzone meravigliosa di Enzo Iannaci, Vecchio cuore rosso nero, mi sono messo questa e ho messo questa sciarpa. Sapete quando ha visto il primo derby questa sciarpa? Me lo sono scritto qua. Pensate che la sciarpa ha visto il derby il 2 marzo del 69. Sono passati 53 anni. Questa sciarpa dopo 53 anni sarà ancora a San Siro. Me l'hanno regalata, l'ho detto più di una volta, le gemelle acerbi. E abbiamo organizzato tutti in classe la terza G del liceo classico Manzoni di andare in curva sopra, però sopra, non dietro la porta, ma al secondo anello, ecco per meglio dire. E vi leggo le formazioni di quel 1 a 1. Segno Corso. L'Inter giocava con Mignussi. Poi è entrato Girardi. Burnic, Facchetti, Bedin, Landini, Cella, Jair Mazzola, Gori, Bertini. Ricorso, allenatore, Foni, Foni, il Milan. Cudicini, Anquilletti, Schnellinger. Rosato, Malatrasi, Trapattoni. Amrin. Poi è entrato Fogli. Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Allenatore, Nereo Rocco. E segnò proprio Prati a quattro minuti dalla fine. Mi sembra nella porta della curva nord, se ben ricordo. Ma andiamo al mio primo derby. Bah, il primo derby, li ricordo vagamente, quello del 58-59, gol di Altafine e Angelillo. Ma un derby che ricordo bene, tolgo per un attimo la sciarca, è quello del 59-60. Derby indimenticabile. Il Milan batté l'Inter con un rotondissimo 5-3. Altafini segnò 1-2-3, quattro gol. E c'era Cardarelli, lo ricordo esatto, il difensore centrale dell'Inter che impazzì con Altafini. Questo è il mio primo ricordo vivissimo del 59-60, il mio primo derby. Ricordo dei derby meravigliosi. L'anno dopo, quando il Milan vinse lo scudetto, andò in campo non favorito contro l'Inter. L'anno dello scudetto, il 61-62, proprio alla vigilia di San Francesco. Il 4 ottobre era festa. Il primo ottobre il Milan batte l'Inter 3-1 e fu la grande partita di Grieves. Questi i miei derby. Poi il derby del, andiamo più avanti, il polpaccio di Bigon che regalò la vittoria al Milan per 3-2. Famoso il polpaccio di Bigon. E poi gli altri derby, i derby, il derby di campionato del 2-2 che regalò la stella praticamente con la doppietta di De Vecchi. Il gol di Atley su Collovati, svettò su Collovati. Insomma, tantissimi ricordi. Ma il derby che, ricordo anche come il derby dove il Milan ha più annichilito l'Inter. Non è stato il 6-0 dell'11 maggio 2001, no. Lì va bene il Milan ha vinto 6-0, un'indimenticabile partita, no. È stato il 24 aprile 1987 quando il Milan, alla vigilia poi del sorpasso sul Napoli, giocò un derby straordinario, giocò un derby straordinario battendo l'Inter 2-0. Ricordate il gol di Rude Gullit con Evane Vicino e il gol di Pietro Paolo Virdis che carpì il pallone a passarella, evitò Zenga e sotto la curva a sud mise a porta vuota. Questo è un altro dei derby che ricordo massimamente. Sono questi i grandi derby così, poi ci sono quelli dell'epoca, ovviamente questo di Berlusconi, e poi c'è anche un altro particolare, il derby del 2-2 con gol di Zapata all'ultimissimissimo secondo, ultimissimissimo secondo. Era il primo derby della proprietà cinese. Oggi è il primo derby della proprietà, della nuova proprietà americana. Ci sarà Gerry Cardinale, ci sarà Gordon Singer, credo anche Paul Singer, ci sarà Giorgio Furlani, c'è il presidente Scaroni. A proposito, oggi ha dichiarato di non poter seguire, come gli avevano anche chiesto, e di essere uno dei responsabili delle Olimpiadi Milano-Cortina, perché dice io continuerò a fare il presidente del Milan. Ci sarà il 14 settembre il Consiglio di amministrazione, che verrà nominato il nuovo e avrebbe dovuto dare il nome del presidente. Quindi questa anticipazione ci fa capire che il presidente potrebbe essere ancora Paolo Scaroni. Poi vedremo se questa sua volontà verrà poi esaudita dal Consiglio di amministrazione. Questa è la regola. Insomma, tanti derby, tante emozioni, tante sciarpe che si alzano. Il Milan oggi si presenta con la piccolo dubbio della partita di Reggio Emilia, perché è stato un po' meno autorevole del solito, però ovviamente si galvanizzerà. Nessun turnover, c'è il debutto di Decatelare molto atteso, molto molto atteso. L'Inter sembra che preferisca mettere Correa rispetto a Dzeko, vista l'assenza di Lukaku, che ha un problema fisico-muscolare. E poi mi sembra che però abbia recuperato bastoni. Ma noi parliamo del Milan. La difesa a Tomori, Kalulu, dovrà ovviamente essere attentissima, soprattutto sull'Otaro. Il fatto che non ci sia Perisic, che io ho sempre considerato il giocatore più pericoloso dell'Inter negli ultimi, dopo che è tornato dalla sua esperienza, ma anche prima al Bayern Monaco. Per me è già venire giù Perisic sulle fasce, non averlo, non avere la sua forza, non avere il suo fiuto del gol, la sua puntualità. E' già tanto. E' il giocatore che ho sempre temuto, non lo dico adesso perché non c'è, ma chi ricorda quando mi dicevano, ma chi vorresti togliere? Io dicevo sì, chiaro, toglierei i Cardi. Chiaro, tutti toglieremmo Lautaro, Lukaku. Io personalmente prima toglievo Andanovic, che ha sempre fatto miracoli. Ricordo la parata su Tonali, che voleva segnare nel derby, ha fatto un miracolo straordinario il portiere Andanovic, ma soprattutto Perisic. Per quello che riguarda il Milan, Tonali giocherà un po' più avanti. Quindi non escludiamo delle sue conclusioni pericolose al limite dell'area, dove non brilla al limite dell'area, ma brilla di più nel caldo dell'area. A destra dovrebbe essere preferito Messias, speriamo che trovi la giornata del suo guizzo, della sua imprevedibilità. A sinistra Leao, che non ha ancora segnato nel derby. E' là davanti Giroud, che conosce bene la strada per segnare nel derby, per diventare ancora una leggenda sempre nel derby. Olivier Giroud. Volevo anche ricordare per chi andasse a San Siro, che segue questo video, attenzione di partire un po' prima, perché c'è un concerto a San Siro, al Galoppo, credo, o la Maura, credo al Galoppo, di uno dei componenti della famosa band One Direction. C'è una grandissima attesa, tantissimi ragazzi, quindi bisogna andare un po' prima, perché ci saranno file anche per il concerto di questo cantante. Quindi andate presto, e poi aspetto la scenografia, mi aspetto una scenografia, come sempre, splendida. E per quello che riguarda il giocatore, il mio giocatore, vado alle statistiche, vado all'esoterismo. Io spero indechetelare, perché debutta nel derby, e come Cacà alla quinta, e come Ronaldinho alla quinta giornata, hanno debutato e hanno segnato. Io spero che tocchi questa volta a decetelare, segnare il gol della vittoria, o anche il gol del 2-0. Non lo so, l'importante è che segni un gol importante il nostro menestrello innamorato, che faccia incantare con le sue canzoni delicate dedicate ai tifosi, ma anche al pallone. Io mi auguro che sia uno dei grandi protagonisti. Il Milan è una squadra, in questo momento, a otto punti. 9 l'Inter, 10 la Roma e l'Atalanta. In questo momento bisogna tenere la posizione per poi superare tre ostacoli, prima importanti, cioè ostacoli di caratura a livello italiano, cioè le squadre di vertice. A oggi l'Inter, poi il 18 il Napoli, e la seconda domenica di ottobre la Juventus. Poi sono partite con squadre che fanno parte delle sette sorelle, quindi l'impressione è che quest'anno conti molto d'accordo vincere con le piccole, ma soprattutto nel gironcino. Da a otto contro Fiorentina, Atalanta, Roma-Lazio, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta, bisogna vincere le partite contro queste perché forse valgono doppio, indipendentemente dallo scontro diretto, perché avete visto che quest'anno è già in vigore la nuova regola che in caso di parità si andrà allo spareggio, non c'entra lo scontro diretto. E direi che è abbastanza giusto, perché lo scontro diretto magari risale a febbraio, e quindi o ai tempi, nei due scontri, quindi si va giustamente allo spareggio. Nelle altre campionate si va magari a differenza reti, qui lo spareggio. Speriamo di non arrivare allo spareggio, di vincere prima. L'importante è però non pensare lontano e pensare a questa partita, a il Milan che affronta l'Inter, c'è grande attesa, la temperatura è abbastanza affosa, come dicono i tedeschi, affosa, cielo grigio, un po' di solino, questo settembre abbastanza pesante come atmosfera, speriamo che, come dico sempre io poi, soffi zeffiro dolce a San Siro, magari grazie alle prodezze dei nostri grandi, rossoneri dei vecchi cuori, e allora forza lotta vincerai, ho indossato la maglietta e spero che questa sciarpa, come sempre, si alzi. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti e attivate la campanella.